con piacere buia ma certo ma non è pronto certo indice roger con piacere sicuro in marcia oh 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 fantastico te la stai cavando bene signor reynor abbiamo rilevato tracce di altri minerali dall'altra parte del canyon e cosa fate i tuoi uomini lavorano velocemente in pratica abbiamo già la metà dei minerali necessari facciamo le cose per bene ragazzi cattiva notizie roger la base giacimento minerario giacimento minerario esaurito attività sismica in aumento si consiglia cautela allarme allarme eruzione e minette evacuare immediatamente i bassi piacere armato è pronto sicuro in marcia via libera ora si può procedere con le operazioni di scavo giacimento minerario ti stavo aspettando con piacere giacimento minerario esaurito garantito facciamo le cose per bene ragazzi c'è bisogno di me c'è bisogno di me ha intenzione di darmi giacimento minerario esaurito Affermativo Oh, fantastico Va bene Certo Non vedo l'ora Affare fatto Ricevuto Sicuro, in marcia Via, via, via Ricevuto Bungirà Vieni Il signore Hai sezione di darmi ordini Ordini ricevuti Roger Garantito Affermativo Affare fatto E cosa passa? Va bene Ricevuto Perché no? Il signore Garantito Certo E cosa fa? Garantito Ce l'abbiamo quasi fatta Signor Raynor Mancano pochi minerali Armato e pronto Perché no? Ti stavo aspettando Capito? Sì signore Certo Sicuro In marcia Garantito Certo Signore Roger Affermativo Affermativo Ordini ricevuti Sì signore Affare fatto Affare fatto Buia Cattiva notizie Sì Siamo Comunicare Bungirà Bungirà Garantito Bungirà 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 Spero che ne valga la pena Certo Via 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 Atività sismica in aumento Se consiglia cautela Allarme, eruzione imminente Evacuare immediatamente i bassi piani La sentiamo Allarme, eruzione imminente